Mi sono reso conto dell'importanza delle frequenze sonore per riequilibrare la mente e il corpo. Perché il senso dell'amicizia in realtà è condividere poi una visione di valori, di risonanza armonica. Perché se siamo musica possiamo anche prendere atto che tutto il creato è musica. In principio c'era il suono. Gli stili di attaccamento sono così importanti per poi determinare come ci sentiamo da grandi. Crescendo non ho mai creduto che i miei bisogni potessero essere soddisfatti. Perché se si sente molto amato si sente rassicurato. Ma se quest'amore a volte c'è a volte non c'è è ambivalente. E sono stato padre e madre, unica voce nell'essere, quando nel posto dei pensieri avevo il buio e il cera nero. Si bucava Angelo. Angelo era un assuntore abituale di eroina. E con Angelo eravamo riusciti a capire proprio che si esce dai drammi della vita quando rinasciamo padre e madre di noi stessi. Quel bambino che c'è dentro di noi lo andiamo a prendere per mano se è stato lasciato da qualche parte. Quello che è successo con la mamma non c'entra con te. Anzi, io e la mamma andiamo d'accordo sulla cosa più importante. Il fatto che tutti e due proviamo la stessa cosa per te. Ti amiamo. E quando un ragazzo si sente abbandonato? Si sente abbandonato anche dal padre, dalla madre, anche quando questi due genitori gli stanno sempre addosso. Che un genitore ha la stessa età del figlio. Perché quando nasce un bambino, nasce una madre. Lo vedevo io in ospedale, come cambiavano da un giorno all'altro. Non durante la gravidanza, quando ce l'avevano lì. E se tu non vai bene, non sai fare questo esercizio che io ho spiegato, non mi preoccupo di come tu possa capirlo. Se l'ha capito l'altro, io pretendo che tu l'abbia capito come l'altro. Ma noi dobbiamo imparare a capire come capisce l'alunno, prima di insegnargli le cose.